E' un bando che ho voluto fortemente perché riguarda una misura che va a favore delle associazioni di volontariato, dell'associazione del terzo settore e delle ONUS che fanno un lavoro egregio eccezionale a favore delle persone in difficoltà, persone disabili, di supporto alle varie istituzioni ma anche nel periodo di emergenza abbiamo visto quanto è importante il loro lavoro e quindi gli voglio dare sicuramente un riconoscimento che si concretizza anche in un contributo economico che va dai 10 ai 30 mila euro, è una dote finanziaria molto importante, non era stata mai impegnata fino ad ora da parte della regione Abruzzo e invece l'ho voluto implementare, circa un milione e sei per cercare appunto di dare incontro alle loro esigenze. Il bando è già stato pubblicato e il termine per fare domande scade il 9 ottobre, quindi spero che tante associazioni possano attingere questi fondi che sicuramente sono necessari per la loro attività, quindi per ridurre le disuguaglianze, per cercare di aiutare quelle persone che stanno in stato di povertà. Sono sicuramente tante le associazioni interessate, molto spesso però il loro lavoro è un po' nascosto. Sì, sì, è proprio questo il motivo, però io ritengo che sia di fondamentale importanza. Sono, come dicevo, di supporto alle istituzioni, non sempre ce ne rendiamo conto, ma io che ho fatto anche il sindaco, ho visto il lavoro che hanno fatto nel periodo dell'emergenza, nel terremoto, nella grande nevicata, ma anche e soprattutto nella pandemia, ritengo che siano di fondamentale importanza perché poi loro ci sono sempre e quindi è giusto che venga dato un aiuto, un aiuto che se lo meritano.